Beautiful anticipazioni Deacon va nel panico quando scopre che la misteriosa donna rossa con cui ha passato la notte non è altro che Sheila. Quest'ultima fa a Deacon un'offerta che non può rifiutare. Deacon si sveglia accanto alla donna con capelli rossi addormentata e annuisce. Papà è tornato. Successivamente, fa una smorfia a causa di un forte mal di testa dovuto ai postumi di una sbornia, mentre la donna inizia a svegliarsi. Deacon le confida che è stato molto passionale la notte precedente e che non si era mai saziato di lei, ma era felice di poterla soddisfare. Le dà un bacio sulla spalla e lei nasconde un sorriso compiaciuto che nasconde un segreto. Nel frattempo Hope e Brooke stanno discutendo sulla situazione riguardante la richiesta di Thomas di far vivere Douglas con lui. Hope è convinta che cambiare la vita di Del Bambino per un semplice capriccio sia sbagliato, e Brooke è totalmente d'accordo con lei. Hope cerca di scoprire se sua madre ha discusso della questione con Ridge. Brooke afferma di averlo fatto e spera ardentemente che tutto si risolva presto. Non è necessario arrivare a tali estremi. Come ho detto a Ridge, Douglas dovrebbe rimanere qui con te, Liam e Beth. A casa sulla scogliera, Steffi e Taylor sono concordi sul fatto che sia positivo che Finn torni al lavoro. Mentre Steffi dice a sua madre che i miracoli effettivamente accadono e potrebbero accadere anche a lei, Ridge arriva. Steffi domanda a Ridge come è andata la conversazione con Brooke riguardo a Thomas e Douglas, Ridge risponde che è favorevole a mantenere Douglas dove si trova attualmente. Poi aggiunge, non era felice, specialmente quando le ho confessato che ci siamo baciati a Monaco. Gli occhi di Taylor e Steffi si spalancano. Le due donne si scambiano uno sguardo silenzioso mentre Ridge è di spalle. Nella sua camera, Deacon si è ora vestito e chiede alla donna nel letto se finalmente gli rivelerà il suo nome, poiché la scorsa notte non ha sbirciato nemmeno una parola. Sei davvero intrigante e mi affascini, dice lui a lei. Nel frattempo, Brooke rassicura Hope sottolineando che sarà sempre la per sostenere lei e i suoi figli. Hope esprime la sua gratitudine e si commuove hanno costruito un nido familiare meraviglioso e adesso Thomas desidera disturbare l'armonia quotidiana. Tuttavia riconoscono entrambe che Douglas soffre quando è separato dal padre. Mentre Brooke suggerisce che Thomas potrebbe trovare alternative valide senza la necessità di trasferire Douglas a casa di Eric. Hope fatica a comprendere perché si ponga tanto accento sul suo essere una Forrester. Ciò che conta veramente è il benessere del bambino. Non desidera una battaglia legale per la custodia né che ciò influisca sulla relazione tra sua madre e Ridge, Brooke confessa. Soprattutto ora che Taylor sta in agguato, pronta a colpire di nuovo. Poi spiega a Hope che Taylor sta cercando ogni opportunità possibile e sembra averne trovata una. Hope chiede se si è già successo qualcosa. A malincuore, Brooke ammette che Taylor e Ridge si sono baciati a Monaco. Nella stanza di Deacon, la sua voglia non è di cibo, ma di baciare appassionatamente la donna dai capelli rossi, mentre accarezza le sue gambe e i suoi piedi. All'improvviso nota qualcosa di strano. Wow, cosa è successo qui? Cosa ti è successo al dito del piede? Deacon ricorda la notizia della presunta morte di Sheila e del suo corpo identificato tramite il dito mancante. Nel mezzo dell'orrore che cresce dentro di lui, Deacon balbetta non può essere. La donna a questo punto si toglie una maschera protesica e la parrucca rossa, lasciando intravedere un malizioso sorriso. È Sheila che esclama. Mamma è tornata. Deacon, visibilmente sconvolto, dice a Sheila che credeva che lei fosse stata attaccata e uccisa da un orso. Sheila si appoggia con aria compiaciuta e soddisfatta sullo schienale e inizia a ridere dicendo L'unica cosa che mi ha attaccato sei stato tu. Poco dopo Sheila riflette sul fatto di aver lasciato senza parole il padre di Hop la notte precedente, si avvicina a lui sulle sue ginocchia e lo bacia, mentre Deacon, confuso, le dice che è pazza. Lei risponde con un sorriso, ma ci siamo trovati molto bene tra le lenzuola. Deacon aggrotta la fronte mentre Sheila appoggia la testa sul suo petto, cercando di trattenere un sorriso. Tirandosi indietro, Sheila chiede cosa non vada, poiché non è abituata a vedere Deacon senza parole. Deacon rivela che pensava che lei fosse morta, Lei ridendo le fa presente che ieri sera ha dimostrato più volte di essere tutt'altro che morta. La Carter cerca di tirarlo verso il letto, desiderando un altro round, ma Deacon le chiede di smetterla, poi domanda Come hai fatto a convincere tutti che eri morta? Sheila rivela di aver fatto tutto il necessario per far sembrare che fosse stata davvero sbranata da un orso. Sa che Ridge e i Forrester avrebbero avuto bisogno di ulteriori prove, quindi ha agito di conseguenza. Questo porcellino doveva andarsene ciao. Mentre Deacon sconcertato balbetta, ti sei tagliata il dito del piede? Sheila ammette che rimuovere il dito del piede è stata la più intensa esperienza di dolore fisico che abbia mai provato, ma era l'unica scelta possibile. Sapeva che l'avrebbero cercata e non poteva vivere in fuga in quel modo. Deacon la considera pazza, ma lei ribatte che non può accettare di vivere come un animale in gabbia dietro le sbarre. Lui fatica a credere che lei sia lì e che abbia avuto una relazione con lei, mentre Sheila vorrebbe che lui riconoscesse di essersi divertito molto, ma Deacon la interroga chiedendo Per quale motivo sei venuta qui? Lo sai bene che sono sotto sorveglianza. Sheila gli ricorda che tutti credono che sia morta. Non c'è nessuno che possa capirmi come te, afferma lei. Proprio in quel momento, l'ufficiale di sorveglianza di Deacon bussa alla porta e gli chiede di aprirla. La Carter chiede per favore di non dire nulla su di lei, mentre l'ufficiale di sorveglianza urla. Apri immediatamente. Deacon terrorizzato manda Sheila in bagno e lascia entrare il ragazzo. Jordan chiede se c'è qualche problema. Deacon nega con la testa mentre l'ufficiale continua dicendo Non hai nulla da nascondere. Nel frattempo, Sheila ascolta mentre il ragazzo accusa Deacon di essere nervoso e nota che sembra aver dormito poco. Deacon spiega che ha ottenuto un aumento al lavoro e ha trascorso del tempo con sua figlia, Mentre Jordan le chiede se c'è altro che vuole condividere con lui. Sheila provoca accidentalmente un rumore forte che porta l'ufficiale di sorveglianza a domandare se c'è qualcuno nel bagno. Sheila a questo punto grida con un accento del sud chiedendo se la gente di sorveglianza è lì. Jordan chiede chi è lei, mentre la Carter afferma di essere l'amica di Deacon, aggiungendo che lui l'ha sorpresa nella vasca da bagno, Deacon spiega che è dispiaciuto per non essere onesto. Jordan sottolinea che Deacon ha una relazione e non ne ha mai parlato Deacon ribatte dicendo che è stata solo una notte e non sarà una cosa regolare. Nel frattempo, in bagno Sheila solleva gli occhi al cielo, Jordan riceve una chiamata e deve andare ma suggerisce a Deacon che una nuova relazione potrebbe avere un'influenza positiva su di lui. In quel momento, Sheila esce dal bagno cantilenando ciao dolcezza Deacon chiede cosa ti passa per la testa. Sheila le fa sapere che sarebbe piacevole se potessero entrambi concedersi un bagno caldo e rilassante. Deacon rimprovera Sheila con rabbia per le sue azioni e chiede perché diavolo è tornata. Sheila spiega che non vuole rimanere sola per tutta la vita. Deacon rimane sbalordito e risponde. Credi davvero che ci sia una possibilità per te di avere una relazione con Finn dopo tutto quello che hai fatto? Sheila racconta che desidera solo essere vicina a Finn e Ayes. Deacon replica. Non capisci vero? Stanno meglio senza di te. Tristemente, Sheila si siede e spiega che suo figlio è tutto ciò che le rimane e l'ultima speranza per trovare qualcosa di positivo in questa miserabile vita. Poi aggiunge che Finn è un uomo buono e Ayes è così affascinante. Deacon le dice che non può rimanere lì. È un problema per entrambi. Sheila pensa che i guai possano essere stimolanti, ma Deacon le ordina di andarsene. Non c'è una ragione in questo universo per cui ti farei restare qui. Sheila a questo punto gli rivela. Ho molti soldi dimmi una cifra vai avanti. Dimmi cosa ti occorre. Deacon chiede. Quanto ne hai? Lei sorride. Adesso non desidera che io me ne vada vero? Afferma lei. Deacon scuote la testa e spiega che adesso ha un bel rapporto con sua figlia. a uscire con lei potrebbe comprometterlo pertanto risponde. Devi andartene immediatamente. Lockhart gli fa presente che un tempo era una persona di successo e una presenza da non sottovalutare, mentre adesso a fatica riesce a mantenersi a galla. Sheila descrive un quadro di Deacon come una persona ricca e di successo, capace di investire nel proprio futuro. Deacon è preoccupato dell'impatto che ciò potrebbe avere sulla sua relazione e poi domanda perché proprio lui, Sheila lo coinvolge in un bacio passionale e gli dice, penso che ieri sera tu abbia trovato la risposta a questa domanda. Le anticipazioni terminano qui, per non perdere i prossimi video scriviti al canale.